Oh mamma santa Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Oggi forse era meglio se vi avessi detto buongiorno perché io, forse lo sentite anche dalla voce mi sono svegliata da un quarto d'ora più o meno, tra l'altro stavate non ho neanche dormito lasciamo stare, quindi è anche già tardi e giusto il tempo di prendere un caffè mi sono messa a registrare con voi perché oggi voglio parlarvi di alcuni prodottini e fare con voi una skin care adatta per chi ha una pelle mista grassa per l'estate perché come sapete con il cambio di stagione cambiano anche le esigenze della pelle io ho una pelle mista tendente al grasso appunto e quindi ho bisogno di pochi prodotti però ovviamente devono essere prodotti giusti altrimenti magari rischia che la mia pelle si irrita si unge ancora di più oppure vengono dei brufoletti sotto pelle i prodotti che vi volevo far vedere vi anticipo che mi sono stati tutti omaggiati dal sito YesStyle di cui vi lascerò anche il link sotto in info box se volete andare a dare un'occhiata e vi lascio anche qui il mio codice sconto perché se siete interessati ad acquistare da quel sito potete avere un piccolo sconto utilizzando il mio codice affiliato dunque veniamo subito a noi adesso che bel faccino che ho mi vado a lavare la faccia utilizzando questo kit qui praticamente questo è un kit con all'interno 4 prodotti dove troviamo no fail totale ero convinta che ci fosse anche appunto un gel detergente invece no iniziamo dal tonico quindi niente vado ad utilizzare il mio solito detergente viso e poi torno da voi ecco mi è tornata mi sono lavata la faccia infatti è un po' meno unta direi però sempre gonfia ovviamente la mattina mi sveglio che ho la faccia gonfia come un pallone comunque allora vi volevo mostrare intanto questo kit qui e si chiama Ouya Niashin 30 Days Brightening Starter Kit è praticamente un kit che dovrebbe durare almeno un mesetto quindi è un trattamento di prova di almeno un mese perché poi sul sito vendono anche le full size e c'è all'interno un tonico on siero una gel cream quindi una crema gel una sleeping mask allora adesso che mi sono andata a detergere vado a passare direttamente con il tonico questo è un Brightening Up Dull Skin Tone come lo traduco insomma un tonico dai con un'azione illuminante praticamente è un kit che aiuta a illuminare la pelle e un'antimacchia e tra l'altro dovrebbe anche dire qualcosa da qualche parte mi sembrava fosse Agli Agrumi penso giusto io sono convinta sia gli Agrumi quindi da qualche parte la foto di un limone verrà fuori le sue caratteristiche sono appunto di aiutare ad idratare rivitalizzare illuminare e andare contro le imperfezioni della pelle quindi adesso lo proviamo subito che poi non guardate che me l'hanno mandato gratuitamente ma in realtà io ero super curiosa di provarlo quindi penso che l'avrei comunque comprato e gli ingredienti principali di questo kit sono la Niacinamide che aiuta appunto a sbiancare e la UIA che non so che cosa sia ma sembra essere appunto un questo frutto qui tipo un limone un kebo ed ha un'azione nutriente ed idratante allora il tonico dov'è questo è questo qui aspettate eccolo qui piccolino vabbè piccolino però ci si fa un po' un mese di sicuro sì e lo vado a dare con le mani perché a me piace stendere appunto il tonico sempre con le mani uno per non consumare troppo troppi dischetti di cotone e due perché sinceramente è totalmente inutile vai tanto bene con le mani perché usare il cotone oh mamma profuma proprio di limone sarà questa UIA ma buonissimo pelle mista grassa tornando a noi no vi lavate la faccia tonico sempre importantissimo metterlo perché aiuta a riequilibrare il pH della pelle dopo che l'avete appunto sciacquata con l'acqua o comunque detersa con un detergente viso e questo devo dire che si è assorbito molto molto facilmente o altri tonici però fanno un pochino più di fatica ad assorbirsi questo si è assorbito molto facilmente e poi è super piacevole sembra quasi aromaterapico però in realtà non viene detto niente a riguardo tonico applicato passiamo al secondo prodotto quindi quello che vi consiglio di fare è di applicare un siero io vado ad applicare quello lì sempre di questo kit sbiancante e niente questo contiene un 5% di niacinamide e c'è scritto blemish care serum quindi appunto aiuta a prevenire le imperfezioni quindi se avete una pelle mista o grassa è perfetto ed essendo appunto un siero è leggero sulla pelle metto qualche goccia è leggerissimo ragazzi si è già assorbito anche questa in genere devo stare sempre un pochino di più lì a a fare pat pat mentre questa volta entrambi i prodotti sia il tonico che questo siero si sono assorbiti facilmente quindi sono leggeri bene bene come siero volevo farvi vedere anche altri due prodotti anzi no un altro kit diciamo mi hanno inviato questo qui questo è un kit prova diciamo così perché anche di queste sono mini size ma c'è le full size sul sito con del brand unique non so come si pronunci comunque vabbè e ci sono tre estieri adesso ne vedete due ma vi spiego perché c'è uno alla rosa rose galacto insomma uno alla rosa uno al tea tree e uno al propoli quello al propoli siccome io avevo già precedentemente comprato la full size l'ho dato a mia mamma perché avevo un piacere di farglielo provare ed è un tonico scusatemi ed è un siero ad azione illuminante idratante e appunto nutriente quindi ne ho sentito parlare benissimissimo di quello lì e quindi niente ci tenevo a farlo provare anche a lei dato che io ho la full size che però ancora non ho aperto non ho provato quindi io penso che il prossimo siero che andrò a provare poi sarà questo ma adesso volevo provare almeno per un mese a fare lo starter kit questo qui quindi vediamo un attimino dopo il siero vado ad applicare questa crema qui contenuta sempre nello starter kit e contiene anche lei il 5% di niacinamide e il 90% di questo huia extract quindi direte ma non è troppo siero e crema no l'unica cosa l'unica accortezza se avete una pelle in mista grassa che già tende ad ungersi figuriamoci in estate con il caldo di utilizzare dei prodotti comunque leggeri infatti questa non è una crema ma è una crema in gel quindi ha molta base acquosa è molto morbida è di facile assorbimento infatti oh mamma però vedete ecco questo video lo dovrei intitolare il video di saggio bene mi piace molto la sensazione lascia quella sensazione un po' sticky sapete un pochino appiccicosa diciamo però si è assorbita facilmente e la senti che proprio la pelle non è appesantita quindi è molto leggera altro prodotto che vorrei mostrarvi è questo tonico qui del brand Klairs che potete sempre ovviamente trovare sul loro sito poi tra l'altro in info box vi lascerò anche tutti i vari link ai prodotti che vi sto mostrando ed è un tonico molto molto delicato per la pelle che aiuta a riequilibrare il pH va a dare idratazione nutrimento vegano e è questo questo è tra l'altro questo so che è un tonico adattissimo proprio a chi ha anche una pelle sensibilissima e reattiva però non l'ho ancora provato magari potrei provarlo in una skin care serale magari fatemi sapere con un commentino sotto se volete vedere anche una skin care serale estiva così magari se vi interessa l'argomento la faccio provando i prodotti che non non vi mostrerò oggi dal vivo all'azione se no niente ve ne parlo e basta e infine sempre del e infine sempre del brand Klairs mi hanno mandato queste due maschere monouso nutriente e una calmante sono curiosa di farle di provarle perché tra l'altro hanno un pack super lussuoso perché non è in plastichina ma è quasi un cartoncino è bello spesso molto molto carine ma più che carino devono essere efficaci ma poi le proveremo magari non adesso perché non andrei a fare una maschera particolarmente idratante o particolarmente nutriente al mattino dopo qualche minuto dall'applicazione della crema della crema giorno vado sempre semplissimo ma questo anche in inverno ma ovviamente più che mai in estate ad applicare questa crema solare e allora questa però l'ho acquistata io tempo fa perché io prima di collaborare con loro comunque sono proprio una cliente io acquisto veramente dal loro sito ed è un filtro solare 50 più del marchio a pie pie madonna cioè ma che non mi c'hanno sta gente vabbè comunque ed è un filtro solare leggermente tonalizzante ma in realtà mi sbiace cioè io sono sempre bianca e ne metto un pochino su tutto il viso mi raccomando ragazze è fondamentale applicare sempre la protezione solare ah ho messo il contorno occhi ma non è di loro quindi non ve lo mostro in questo video vedete come sbianco ma tanto poi una volta truccate non si vede questo è un filtro solare delicato e quindi lo potete mettere anche nella zona del contorno degli occhi non dà assolutamente fastidio cioè non brucia non dà problemi mi raccomando ragazzi e ragazzi a questo punto io vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanellina così non vi perdete i prossimi video lasciate un bel like di supporto e ci vediamo presto ciao ciao